Buonasera, parliamo di acque profumate che costano 2 euro Buonasera, buonasera a tutti e a tutti Scusate per l'aspetto, io sono truccata da qualche ora oramai ma ho deciso di fare questo video di fretta e di furia e avevo fatto questo trucco così un po' pazzerello perché oggi mi sono fatta le unghie verdi e volevo abbinarci il make up così per andare a fare la doccia come mi capita di fare spesso infatti sotto sono in canottiera per questo è preferibile che io riprenda solo il viso però siccome che ho appena chiuso una live qui sul canale, sul canale youtube dove una ragazza gentilissimamente mi ha avvisato ricordandosi che io avevo comunque fatto delle stories Instagram diversi mesi fa parlando di queste acque profumate che da AMD, c'è proprio il discount AMD, cioè Modena Domodossola faccio lo spelling per chi non conoscesse sono tornate queste acque profumate però in diverse profumazioni non sto parlando delle acque profumate che di norma AMD ma di queste acque profumate qui della brand Flor de Mayo eccole qua, queste sono comunque i loro pack che io ho comprato sul finire dell'estate scorsa quindi diciamo verso, non vorrei dire una stupidaggine ma credo verso fine di agosto o comunque settembre più o meno il periodo era quello lì ecco io ho comprato queste acque profumate e me ne sono innamorata perduta niente avevo iniziato a comprare una e una poi me ne sono talmente innamorata che le ho prese tutte e quattro questa ragazza abbiamo dato anche le foto ci sono delle profumazioni diverse tra cui una al cocco quindi non ci sono più queste che io vi farò vedere ma chissà magari potreste trovarle negli AMD appunto delle vostre città oppure non so però io vi consiglio veramente di provarle provatene almeno una perché sono molto 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 interessanti quindi ve ne parlo brevemente sono acque profumate come vedete con dei pack molto carini l'unica cosa un po' rompiscatole che hanno queste chiusure che non sono tanto cioè dei tappi che sono un po' così no cioè quindi vengono un po' via però vabbè sono 240 ml di prodotto quindi un bel botticione questa in particolare è alla pesca e si chiama Melocotone Sunrise non so se sia comunque nome della pesca in spagnolo perché questo è un brand spagnolo da quello che ho capito infatti viene dalla Spagna e la profumazione è proprio quella della pesca voi direte a me non tanto piace di solito la profumazione della pesca perché più che altro la sento sempre molto 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 chimica in questo caso non mi dà quella sensazione quindi anche qui parliamo di acque profumate che hanno una durata circa di 3 ore non di più 2-3 ore però insomma parliamo di 2,29 euro mi sembra che fosse il suo prezzo diciamo che possiamo anche fare lo sforzo di darcela poi questa che si chiama Rebel Fucsia Body Splash questa qui sempre ha il stesso brand questa è buonissima perché io l'avevo spostata nel tappo prima appunto così ve ne potevo un attimo parlare questa profuma di un profumo molto femminile floreale però quei profumi secondo me dentro c'è qualcosa tipo Iris Camellia qualcosa del genere teonia questi fiori molto molto carnosi molto burrosi molto che hanno quel sentore leggermente rossettoso non so se avete presente quei sentori che sanno di vecchi cosmetici quindi questo è un sentore molto femminile diciamo da quel punto di vista molto buona anche questa poi abbiamo questa si chiama Moras Splash quindi Blackberry ecco qua c'è le more guardate che carine che sono le confezioni e questa sa di mora c'è appunto una mora dolce però quindi non c'è quel sentore asprino sembra un po' una caramella avete presente quelle caramelle gommose che si comprano nei nei supermercati si comprano comunque nei sacchetti o comunque si comprano nei tabacchini sfuse che costano tipo 5 centesimi l'una non so se anche da voi ci sono queste cose ha proprio il profumo di quelle caramelle gommose sembra una caramella gommosa alla mora quindi buonissima infine questa che si chiama Fresia Crush alla comunque fragolina guardate che carina anche qua la confezione con tutte le fragoline e questa è la prima che ho preso è quella di cui mi sono follemente innamorata allora questa è addirittura quasi una piramide olfattiva perché quando si apre sa di Big Bubble esattamente Big Bubble quello classico quello blu avete presente quello cioè non è blu è rosa però la confezione esterna il pack è la carta è blu esattamente quel profumo poi si trasforma e diventa un pochino più caramellina alla fragola quindi c'è questo sentore sempre molto zuccherino e dolce alla fragola quindi questo è stato proprio il primo innamoramento quello che poi mi ha fatto dire voglio anche le altre infatti io domani andrò e vedrò se ci sono le prenderò tutte perché mi piacciono moltissimo io come vi dicevo hanno una durata diciamo non eccelsa perché comunque durano intorno alle 2-3 ore però vi ripeto si tratta di acque profumate proprio di body mist da utilizzare in quantità ad un prezzo veramente ridicolo perché parliamo di 2,30 euro cioè una cosa abbastanza imbarazzante però mi sentivo di consigliarvele non ho girato il video fino adesso perché comunque sapevo che non le avreste trovate perché io vado spesso all'MD perché ci sono alcune cose che compro sempre all'MD però sapevo che non le avreste trovate per cui ho pensato di non girare il video comunque per darvi un'informazione di qualche cosa che non potevate trovare ecco dato che mi è stata data questa notizia in queste proprio ore e so che sono tornate ho pensato di comunque comunicarvelo mi raccomando fatemi sapere se andate a sentirle se vi piaceranno se non vi piaceranno se avete comprato qualcosa come sempre spero di esservi stata utile in questo brevissimo video giusto un video informazione non so che mi state guardando sono truccata come un clown però era tanto per provare così ogni tanto mi viene la pazzeria la vecchiaia è così come sempre vi ringrazio vi saluto noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao